Cioè che può essere una terapia costante, ma dobbiamo dirlo stavolta eh, sennò... Quindi raccangio quello che hai detto tu adesso vedendo evoluzione sportiva e attiva. Chi non sogna, chi non occhi. Voi mi avete aperto gli occhi, chi sempre va a imparare tutti i giorni. Voi mi dà a me l'energia per continuare a fare quello che sto facendo. Io so che voglio fare questo. Io mi impegno ogni giorno a fare quello che amo, che lo amo fondemente. La cosa più bella che io vivo ogni volta è come arrivo alla città. Ho provato, ragazzi, la coppa. Sì, wow, bellissimo. Fatti via dei penti, tutto quello che hai fatto scalando con l'Uptime. E alla fine sono stata lì. Sono stata lì finché l'ho portata a casa. E alla fine ce l'ho fatta. E l'amore che trovavo per questo sport, e l'amore anche che ricevevo dalle persone che mi volevano bene, che mi ha diventato la mia forza. Questo sport mi ha dato tantissimo, tantissimo. Anche il fatto che sono qua adesso. È una fortuna. È grandissima energia. È grandissima energia. Grazie per la visione!